Allora Gianni, piacere di rivederti, siamo qui alla Palla di Andrè, alla terza edizione dell'evento live, ma per me è la quinta, perché le prime due che si chiamavano la tecnologia Valmare erano fatte in modo molto più ridotto al teatro comunale di Cesenatico, quindi questa del live è la terza edizione effettivamente, un'edizione un pochino più ricca dell'anno scorso, ma d'altronde man mano che si va avanti deve essere sempre, deve proporre comunque cose nuove, un po' più ricca anche perché si sono aggiunte due aziende che noi come Gioin Trent rappresentiamo, questo è, diciamo, anche perché, faccio una precisazione, anche perché ho ricevuto delle telefonate di qualche azienda, di qualche amico che mi ha detto perché io no, perché io sì, fino adesso la motivazione è quella che partecipano a questa edizione le aziende che la Gioin Trent rappresenta in zona, questo è il senso, quelle che non rappresenta chiaramente non le abbiamo invitate, ma questo non toglie che questa edizione, che è la prossima edizione che, voglio dire, tutti quanti vorrebbero partecipare, non so se verrà aperta o con quale criterio eccetera, ci stiamo lavorando, intanto vi ho già detto che ci sarà una prossima edizione e questo non è male. Quest'anno quindi si sono aggiunti a quelli che l'avevano organizzato l'anno scorso Exibo, con tre o quattro marchi che trovano una giusta collocazione in un'edizione come questa e anche Yamaha che ha fatto le prime come sostenitore, diciamo, offrendo un banco digitale eccetera, quest'anno invece è presente in modo massiccio, quindi con tutti i prodotti che Yamaha propone. Quindi abbiamo un ulteriore Parco Luci che è Red Lighting, sempre annoverato fra i marchi di Exibo, Rob e Multimedia che è il mio partner storico, Clay Pacchi che era presente anche la scorsa edizione. Quindi diciamo che io sono molto contento, mi pare che il pubblico al pubblico, al pubblico che poi non è un pubblico, agli invitati perché sono tutti addetti ai lavori, chiaramente questa formula piaccia e quindi cosa devo dire? Io sono felice, orgoglioso e felice. Chiaramente tutto questo, a parte le aziende che partecipano eccetera, bisogna che ringraziamo anche i media partner, in questo caso voi, Sio Giorgio e backstage per quello che riguarda diciamo ancora la vecchia carta stampata e anche i nostri patrocinatori, diciamo così, che sono l'associazione italiana Light Designer, l'associazione nazionale dei service e la doc servizi per quello che riguarda poi, anche perché come dico, questo è il mondo del live.